fiaschettina in acciaio inox con tappo estraibile che diventa anche bicchierino in quanto questo questa ghiera che è un tappetino si apre a una piccola guarnizione interna e si può versare il contenuto bere direttamente questa parte di giunzione è rifinita in ottone qui abbiamo due guarnizioni siliconiche è un oggetto indubbiamente molto bello molto elegante e anche comodo di scarsissimi ingombro